forchettata e quattro forchettata no dai non è possibile e qua devo fare un video perché questo va nella clip sicuro però però a Romian è un grande perché se ne sbatte e a sua volta risponde con una maniata la cazze che sta vincendo contro di me mi sta proprio abbastanza massacrando e in più come si permette si mette pure a manià mentre giova con me allora la reazione normale sarebbe offendersi arrabbiarsi nervosirsi muovere invece a Romian è un grande e sai che c'è è un manioporio perché tu non sei superiore a me